Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPLi, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Due chilometri di coda tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est, in direzione Firenze. Ancora verso Firenze, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandici e Firenze Scandici. Per la viabilità cittadina a Firenze, in Viale Amendola, fino all'11 febbraio, transito e sosta nel controviale tra Viaggio 8 e il numero civico 48 interrotti all'altezza del cantiere. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!